Ciao siamo Lara e Po! Oggi vi parleremo dei Wizard Water Games della Tomy, che sono questi giochini ad acqua distribuiti dalla Giochi Preziosi. Questi hanno raggiunto il loro massimo negli anni 90, però vediamo che il primo Water Games fu fatto nella Tomy nel 1976 e si chiamava Waterful Ring Toss, che deriva da Ring Toss, ovvero un uomo che fa cazzo. E praticamente era, dovevi mettere degli anelli su dei porti, premendo il pulsante si muoveva e questi anelli andavano. Poi la Tomy ne fece altri, questi li lanciarono negli anni 90. Quello che avevo io è questo qua del pescatore, l'abbiamo comprato quando io stavo in vacanza, meno male questo mia mamma non l'ha buttata, non so, anche la scatola, così che vi possiamo vedere, quali erano i miei. C'erano dei giochi, quindi siamo mini. Erano mini, che sono i tredici, che sono il... E allora il conto era ancora più difficile. Ned Blemeless... Vabbè comunque c'era un delfino, poi c'era il dodici che c'era un granchio, l'undici c'erano due midye nose nah, il lato del midye si, il krab 회 systems l'undici pelican punch poi che c'era il 10 che era l'ippopotamo l'ippopotamo don't speak infatti sono fan Water games e poi c'erano i Huizar Water games, quelli che ho io e c'era il 4.da perché ha il 4? se c'era una stella dovevi mettere le palline, 5 e quello del rodeo dovevi far salire il pantino sul cavallo, non era molto divertente secondo me, tip and tilt 6, una sorta di fungo e un binario dovevi far salire le palline, 7, questo c'è una sorta di pesce palla, 8, 9, che è quello che avevo io, c'era una rana, con la rana dovevi mandare le palline sulla foglia, poi c'erano anche i double player water games, che quindi erano il football, il basketball, io ho giocato al basketball e poi si giocava in due, c'erano i doppi puntanti, allora in queste confezioni ci usciva un tappo di riserva, infatti il water games aveva due tappi, uno sopra e uno sotto, il mio è vecchio, non viene riempito dagli anni 90, è della stessa acqua degli anni 90, quindi potete vedere dei cosi che ci galleggiano dentro, le scimmie acquatiche, può essere, allora qui c'è un adesivo di un pescatore e come si preme il pulsante, adesso questo non andrà alla massima potenza perché non è pieno, diciamo qui c'è un getto d'aria che fa muovere i pesci e di conseguenza la canna si abbassava e quindi bisognava prendere tutti i pesci e questa la canna poi si realizzava automaticamente e li portava nel sessino, vi dirò che i più facili da prenderano i granchi, poi per secondo andavano questi pesci blu, oppure le seppie gialle, ma quelli più difficili erano questi verdi perché comunque avevano una coda molto piccola e quindi era difficile però comunque ci ho passato dei bei pomeriggi, speriamo... Ormonte, ormonte! Dove vi prende? Adesso non si andava perché non c'è l'acqua Speriamo che questa ripensione vi abbia fatto ricordare dei bei momenti, se anche voi avevate questi water fish della Tommy Fatecelo sapere... no scusami, water game, perché ho visto che questo si chiamava gone fishing Fatecelo sapere, diteci quale avevate e alla prossima, ciao! Grazie a tutti